È entrato in vigore oggi in tutto il paese il Green Pass, la certificazione verde che attesta di aver ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid da due settimane, oppure di essere negativo a un tampone nelle 48 ore precedenti o ancora di essere guarito dal virus da meno di sei mesi. Il Green Pass può essere esibito sia in formato digitale che cartaceo ed è necessario per andare a pranzo e a cena nei ristoranti e bar al coperto, per frequentare palestre e piscine, assistere agli spettacoli e partecipare ad eventi e concorsi pubblici, più in generale nei luoghi non all'aperto dove c'è il rischio di assembramenti. Per molti esercenti di bar e ristoranti chiamati da questa mattina a controllare le certificazioni dei clienti che desiderano consumare al chiuso è sicuramente un disagio in più, per altri invece una misura necessaria. Diventa una questione di disagio perché una persona che sta lavorando e non ha tempo per stare a controllare, secondo tutto quello che ci detta, tra virgolette, il nostro decreto. Fino adesso controlli non ne abbiamo fatti perché sono la maggior parte dei nostri clienti che so che il Green Pass ce l'hanno, il vaccino l'hanno fatto, quindi non hanno neanche chiesto, anche perché è già da giorni che loro mi facevano vedere, abbiamo Green Pass e tutto, quindi persone dal di fuori sono sedute fuori nei tavolini, quindi per il momento non ho avuto ore, già non ho dovuto chiedere il Green Pass a nessuno. Questa certificazione verde ha diviso molto gli esercenti, voi come la pensate? Vai nei centri commerciali dove c'è gente, non ti chiedono il Green Pass, solo i bar e ristoranti soliti penalizzati siamo noi, per me è un po' una cavolata. Una scelta penso obbligata perché a questo punto non si può fare in un altro modo, la gente sa che da oggi parte il discorso del Green Pass, quindi tendenzialmente non si siede o consuma al balcone o si accomoda all'esterno, quindi i problemi non ce ne sono stati. Questa mattina c'è stato solo un paio di clienti che vogliono stare dentro, gli abbiamo chiesto questo documento, loro erano a posto con i cartacci in mano, la nostra fortuna è l'esterno, noi abbiamo l'esterno quindi penso che non avremo tanti problemi. Grazie a tutti.